Oh cacchio, e che faccio se mi licenziano? Dovrò tornare al mio vecchio lavoro di modello alla Calvin Klein! Io non voglio essere come tutti gli altri! Sì, ma non voglio essere diverso! Io voglio solo essere! Come si chiamava il cattivo del film Tron? Oh cacchio, è una cosa che mi manda i pazzi!